Mi ha sollecitato in qualche maniera qualche considerazione anche di tipo giuridico. È chiaro che adottare l'ordinanza nel caso specifico, tra l'altro l'ordinanza non viene adottata soltanto per abusi edilizi ma anche per l'occupazione del suolo pubblico, quindi ci sarebbero diversi reati e di conseguenza io credo che insieme all'ordinanza sia dovuta la cosiddetta CNR, cioè la comunicazione di notizia di reato e comunicando la notizia di reato si può proporre al magistrato anche il sequestro preventivo. Quindi sostanzialmente io credo che i mezzi a disposizione per in qualche maniera quantomeno contenere l'azione della BIECO ci sono. Sta a noi adesso utilizzarli nella maniera più appropriata. Condivido l'ipotesi o meglio di farci sentire dal magistrato di Catanzaro perché quella diciamo che è poi la questione centrale. Grazie. Grazie.